Manita mista in cassa con uno studio perfetto in diretta TikTok, avete scritto in migliaia, cioè avete preso tutto il baseball, il basket, il calcio, chi più ne ha più ne metta, sono contento perché il duro lavoro ripaga sempre e comunque tutti i giorni in diretta, l'unico tipster in tutta Italia, tutto gratis per voi tutti i giorni su TikTok, a studiare le partite e nel gruppo privato oggi anche l'unico raddoppio proposto su basket, un studiato comunque in diretta TikTok, anche l'avevo detto, un raddoppio squisito, Barcellona e Stella Rossa che non potevano perdere, Stella Rossa sotto 2-0 di serie, non perdeva mai, non esisteva, che perdeva 3-0 contro partizani e Barcellona che regala, ha già vinto l'Eurolega, panza piena, regola panza piena, quindi un raddoppio che regalava.